Ragazzi, vai! E a sé di va! A sé di va la presentazione! La bella si ama! E a sé di sì! Salta, 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 vai! Vai, 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 vai! Oh, hey! Hey! La veneziana suonata da un giocano! Anche a massa, salta, vai! Anche a massa, salta! Anche a massa principale! Vai, due, uno, due, tre, sei! Sai che quando suona il nostro giocano mi viene in mente la veneziana con la panna, però, con la panna! La carbonara! Eh, la carbonara, scusa! Con la panna, però! Veramente a me non viene in mente, io me la manierei proprio la carbonara! Eh, ragazzi! Vero, Lucio! Hai da non passarci quest'ora! Hai, do! Un, due, due, tre, qui! Sì, ritrovati! Guarda, ragazzi, vai, 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 vai! Allora, ancora quella per l'anziana! Mi rassano di Patrizio! Buonissimo! Grazie, allora, per gli amici!